Nel municipio 8, in via del Ghisallo, da diverso tempo la mancanza delle istituzioni e il degrado fanno da padroni. Ed è proprio sotto al cavalcavia odiato da tutti gli automobilisti che un gruppo di nomadi ha deciso di installarsi realizzando una sorta di appartamento a cielo aperto. La strada è quella che porta al Palasciarp e al grande parcheggio di Lampugnano, proprio alle spalle di Viale Certosa. E qui, tra gli oggetti sparsi in quella che doveva essere un'area verde della città, capita di vedere quotidianamente scene come questa. Gente che dorme sotto gli occhi di tutti, con quella naturalezza di chi si sente nella propria abitazione. Sono appena le 11 e gli altri abitanti del terreno sono in giro per le loro attività e il sonno di questo ragazzo ci permette di avvicinarci e studiare meglio il mondo in cui vivono. Si tratta di una viera casa senza mura. C'è la cucina, improvvisata con pentole e fornelli rudimentali, un magazzino con tutto il mobilio e gli effetti di chi ci vive e infine, proprio accanto alle vetture posteggiate di chi lavora in zona, persino un vasto spazio utilizzato come gabinetto. La grande quantità di materassi presenti in questo prato ci lascia poi intendere che gli abitanti siano in molti e a vedere da come riposa questo ragazzo, sembra proprio che vi rimarranno per molto tempo ancora. Grazie a tutti.